Santana, ho chiesto se fosse qui in questo momento. Allora, io adoro Santana perché dà voce a tante cose che appartengono alla nostra età e soprattutto ispira molto anche gli scrittori, tra cui io. Vorrei sapere, se Santana fosse qui oggi, che domanda ti farebbe? How about those Italian breadsticks? Come sono quei panini italiani così belli? Ok, un nostro amico dalla Francia. Hi, I'm Teana, I'm from France and I love Glee and I'm so glad you're here today. I wanted to ask you, in Glee your character Santana, she's very strong-minded and she's quite a character. In terms of personality, do you consider yourself similar to her? Allora, nello show Glee Santana ha un carattere molto forte. Tu ti consideri simile a lei nel carattere nella tua vita vera? I definitely think that when it comes to having a voice and, you know, just knowing what you want to do and going forward and doing it in those aspects, I'm definitely like Santana. I just probably do it a little bit nicer than she does. Beh, quando si tratta di esprimere le proprie opinioni, far sentire la propria voce ed essere fermi nelle proprie convinzioni, sicuramente mi sento molto simile a Santana, solo che cerco di farlo in una maniera un po' più morbida, meno diretta. Hi Naya, I'm Liliana.